ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video allora molto semplicemente oggi volevo mostrarvi il titan ho finalmente sbloccato quel fottutissimo titan che è costato ben 500 diamanti o quelle che sono questi 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 cosi corium si chiamano bene stavo per acquistarne alcuni come avete potuto vedere perché quel cazzo di simbolo di registrazione di google e in mezzo ai maroni niente queste sono le mie attuali navi e volevo il titan per forza aveva appena comprato il sita ipa aircraft carrier ma il titan è una bomba è una bestia enorme costa un sacco ha un sacco di energia poi veramente farci quello che vuoi con quel con quella bestia e come vedete carica anche le altre navi quelle piccoline che potete mandare contro i nemici e prettamente attacca da fermo questo è una bella cosa nel senso che nelle mappe piccole potete utilizzare il titan che dal centro mappa riesce comunque a colpire da tutte le parti dove la sfiga del titan che quando ti attaccano da vicino il titan ovviamente lo andiamo ad equipaggiare con con armi a distanza quindi a distanza ravvicinata è un po scarso però abbiamo per quello il cruiser e le altre varie navi adesso sto facendo delle prove dato che il titan costa 22 io al momento ho un 44 44 di costo con il chaser l'aircraft una fregata e il titan riesco a fare 43 punti su 44 però io non lo so anche l'aircraft è una nave che attacca da ferma quindi ho pensato bene non subito nelle partite successive che vi farò vedere prossimamente di togliere momentaneamente l'aircraft carrier e lasciare il titan insieme al chaser ed altre due navi forti potenti ma allo stesso tempo un po più mobili del carrier e del titan eliminando del tutto le fregate piccoline quelle che non valgono fondamentalmente niente non hanno spazi per essere potenziate quindi prima cosa che vado a fare è in questo momento andare ad equipaggiarlo con le armi un po più potenti che ho in giro che non sono assolutamente buone tengo a precisare che essendo a livello 15 circa e non essendo dato molto avanti con la campagna ma avendo rigiocato più volte le stesse mappe per riuscire ad avere qualche diciamo ricompensa migliore al momento ho delle schifezze però cerco di dargli ovviamente il meglio quello che andrò a fare dopo togliere tutto dal dall'aircraft carrier e metterlo sul titan ed eliminare eliminare lasciare da parte per il momento finché non aumento di livello e aumento il punteggio della squadra il carrello lascio fuori e utilizzo le altre due navi più potenti che ho più il chaser che abbastanza veloce ma abbastanza equipaggiata bene come vi dicevo l'altra volta equipaggiato il il chaser per essere automatico cioè non ho armi a utilizzo perché voglio che giri intorno alle navi e faccia del gran danno con tutte le armi diciamo a distanza ravvicinata più potente che ho gli ho messi sul chaser adesso andiamo a provare il titan come come funziona diciamo nella in questa battaglia virtuale da di test tanto per per capire un attimo come come si muove come funziona come potete vedere guarda qua quando usa usa cioè tutte tutte queste missili a distanza è una bomba adesso gli ho mandato gli aerei quelli piccolini che girano intorno e fanno danno continuo al alla nave nemica e in più proviamo e proviamo il laser che avevo già messo sopra un'altra nave direi che al momento non fa tutto sto danno come vedete i dps non sono molto alti con con la fregata sono arrivato a 190 195 dps cioè danno per secondo al momento probabilmente perché erano armi potenti non sto facendo tutto questo danno a quella nave però a prescindere anche se sta facendo tutto il danno che fa quell'altra stando intorno ai 180 come vedo adesso comunque li farò veramente per molto tempo perché questa nave non va giù cioè a un degli hp che sono veramente veramente assurdi e quindi diciamo che starò abbastanza tranquillo quando questa nave sarà in mezzo al campo di battaglia sarà presa di mira da tutti i nemici a questo livello in questo momento non gli vado neanche a mettere lo scudo perché ha troppa vita cioè fa tempo a farli fuori guardate però non è effettivamente 200 dps se ci mette un po carburare però tenete conto che l'altra nave ferma se si muove probabilmente qualche colpo andrà a vuoto e quindi non arriverà a 200 fps comunque guardiamolo da vicino è veramente spettacolare c'è una bomba e la nave di quelle che fossimo veramente nella galassia a fare guerre tutti vorrebbero avere nella propria flotta c'è una roba mostruosa e niente probabilmente andrò a togliergli anche il laser perché laser non lo so non non gli farà abbastanza tanto comunque proviamola in una mappa semplicissima 22 su lio questo pianeta bellissimo con la missione di distruggere il nightmare carrier quello centrale quindi foca focalizzerò tutte diciamo le mie navi come potete vedere sulla sulla centrale per farla fuori prima possibile per vincere perché le altre navi anche se mi attaccano non è importante ecco potete vedere il primo attacco è prepotente però le navi piccole che vanno davanti alla nave che devo distruggere vanno a prendere tutti i colpi che ho destinato a quella quindi fondamentalmente anche non volendo sto distruggendo quasi prima le altre che che quella che che ho preso di mira niente come potete vedere comunque di danno ne prende 2000 2000 3000 3000 3000 3500 è un gran danno però ho anche quattro navi completamente addosso addosso a quella fatto abbastanza easy però era solamente un carrier solo un carrier cioè non c'erano altre battleship ad aiutarla come vedete anche la battleship che la è la più potente diciamo quella che fa più danno è comunque una nave che quando deve attaccare si va a fermare quindi adesso ce la faccio tranquillamente a combattere in questa maniera ma devo aumentare di livello per poter avere più spazio più spazio per mettere per mettere il carrier al posto del chaser o del cruiser che comunque sono le due navi un pochino più piccole che ho niente questo è tutto il titan è una bomba se avete bisogno di qualsiasi info non esistete a chiedere vi lascio a qualche altra qualche altro equipaggiamento è un'altra battaglia ecco in questo caso invece abbiamo due battleship o tre e due chaser e una nave che devo andare a distruggere in questo caso sarà un po più tosta perché le altre navi faranno comunque del danno e vediamo vediamo come va diciamo che cerco di velocizzare il subito la battaglia per far arrivare più avanti possibile in modo che le botte le prenda lei al momento essendo più potente del del cruiser e della mia nave piccola nel cesare quindi vado a utilizzare un po tutto quello che ho nel frattempo il titan è veramente al limite della distanza come potete vedere il raggio è molto lungo e quindi prima di andare a colpire la nave che devo andare a parte della missione sto distruggendo le altre fondamentalmente le distrugge abbastanza facilmente anche perché le armi automatiche a medio corto raggio attaccano direttamente le navi più vicine se non arrivano a colpire quella che io ho richiesto di colpire ovviamente colpiscono le altre quindi vedete che i laser che partono vanno a colpire prima tutte le altre battleship tempi di ricarica sono leggermente lunghi però al momento con le armi che possiedo va bene quelle navi non è stata una missione troppo difficile però ho ricevuto dei bei danni secondo me delle navi a riparare ce le ho su 13.000 ad esempio il cesare a metà ecco e qua vado a sbloccare la lo ion railgun 2 che praticamente è un'arma che andrò ad attaccare al cesare perché è un'arma a cortissima distanza e quindi non me ne faccio un cazzo sul sul titan è un'arma comunque molto potente come potete vedere 207 di danno col down 6 secondi però la 0 a 250 50